Era corto di idee. Si sentiva come una bottiglia avuta in mezzo a un paio di ebriachi, diceva. Me non ho ancora trovato il finale. Ancora? Roberto, ti ho dato un mese e non sei ancora riuscito a portarmi il finale di questa storia. Fatti dare una mano. Un morto. Una storia inventata. Una storia vera. E la sceneggiatura? Un morto. Grazie a tutti. Grazie.